Arriveranno a strettissimo giro nelle casse dell'ASP1 i quasi 4 milioni di euro annunciati dalla regione Abruzzo connessi all'emergenza Covid-19. Fondi che permetteranno di alleggerire la situazione economica dell'azienda che si occupa della gestione delle case di riposo di Teramo, Nereto e Civitella. Si è stata emessa la determina di liquidazione, l'ASP1 di Teramo ha un futuro finalmente e quindi le case di riposo di Teramo, Civitella e Nereto. Quindi sicuramente sono soddisfatto, capite benissimo che le procedure alcune volte sono complesse e rallentano l'elargizione dei fondi, ma adesso finalmente abbiamo questi 4 milioni per l'ASP1 di Teramo, si rendono una boccata di ossigeno dopo un milione e mezzo che abbiamo già elargito più i 150 mila euro per il caro energia. Considerate che quando mi sono insegnato ho trovato la situazione di Vitoria molto rilevante, pare a 12 milioni. Con l'insegnamento del commissario, con i fondi messi a disposizione della regione, che sono fondi straordinari perché la regione mensilmente tramite l'ASP la paga puntualmente. Però abbiamo ereditato questa situazione di Vitoria che stiamo cercando di rimettere a posto. La somma va ad aggiungersi al milione e mezzo già finanziato con un precedente bando, resta però una situazione debitoria, che secondo il commissario Canzio con i prossimi interventi e con il nuovo piano industriale sarà risolta entro il 2024 con la parità di bilancio. Questo è un primo step, una corsa a tappe che prevede poi alla fine il pareggio di bilancio, ma che prevede diverse tappe, tra cui la prima era questa, poi abbiamo la vendita degli immobili che riteniamo non utili ai fini dell'azienda, che sono diversi appartamenti, su cui personalmente ho ritenuto di ritenere che i valori che erano stati stabiliti in precedenza non erano congrui e questo ha comportato una rivisitazione di quei valori e quindi anche magari dei mesi in più rispetto alla possibilità di venderli. Poi abbiamo anche altri punti da portare avanti, come quello dell'accreditamento che l'azienda aspetta dal 2018 e su cui abbiamo trovato l'escondo positivo da parte dell'attuale Giunta e quindi speriamo che a breve si andrà anche in quella direzione. Poi abbiamo anche l'adeguamento delle tariffe su cui stiamo anche lavorando, in più avremo ulteriori entrate dagli immobili che grazie ai fondi Sismo andremo a ristrutturare e dove andremo a mettere l'attività sempre connessa a quelli che sono i fini dell'ASP.